Con il numero 13, Marco Rossi, con il numero 14, Gabriele Romando, con il numero 15, Ticolo Pianchi, 18, Simone Corazza, con il numero 19, Cervan Davis, con il numero 20, Francesco De Rose, e con il numero 32, Desiderio Garuffo, allenatore Domenico Toscano, a disposizione 22, Alessandro Faroni, 4, Francesco Salandria, 7, Dicchio, Sunas, 8, Alberto, di Francesco. Grazie a tutti. 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 Riconclude il poker! Adesso queste nevo i piedi ci siamo ancora Ma la vina di ciange da E quando la vina ciange da Per dar la parte che È quello che ci vuoi tenerci E la visita non ci vuole Ya la vera la magra è una bambina Ma la dignità non ci vuole Ma la dignità non ci vuole Grazie per la visione!